Oggi è il 25 aprile, 76 anni fa l'Italia veniva liberata dal regime nazifascista. Una conquista importante per il nostro Stato democratico e il punto di partenza per una nuova nazione. Adesso noi stiamo facendo una resistenza strenua contro il virus, stiamo combattendo un'altra guerra mondiale e sicuramente facendo resistenza riusciremo a sconfiggere questo virus. Quindi ricordando i nostri padri fondatori noi dobbiamo continuare lungo questa strada. Ricordiamo oggi Luigi Cortese che è stato un grande partigiano nisseno e ora è sempre resistenza.